Ci sono realtà, ripeto, pesanti dove le persone sono ancora dentro uffici orrendi e ci stanno 8 ore, cascasse il mondo, devono starci 8 ore. Dall'altra, su questo filone, la città stessa che può essere reinventata a questo punto dai cittadini, vedere una città come un ufficio credo che sia sinergico al lavoro che state facendo e esalti ancora di più le possibilità che voi vedete all'interno di un ufficio se la città stessa si offre come un ufficio. Grazie